Vi diamo il benvenuto in questa celebrazione della vita di Martin Luther King Jr. Egli è stato un uomo straordinario, dotato di grande forza e coraggio, un eroe della giustizia sociale e una fonte di speranza luminosa per milioni di persone in ogni parte del mondo. Le sue parole, che risuonano ancora oggi come un faro di speranza e ispirazione, rappresentano un invito alla lotta per un mondo più equo e pacifico. La giustizia è amore in azione. Il nostro destino è legato al destino degli altri. Non possiamo permetterci di vedere il mondo come lo vediamo oggi. Non importa dove ti trovi ora, devi decidere dove vuoi andare da qui. La non-violenza è una potente e giusta arma che taglia senza ferire e si costruisce la comprensione tra uomo. La vera pace non è solo l'assenza di tensione, è la presenza di giustizia. Non possiamo camminare da soli. La vera pace viene solo quando viene data la giustizia a tutti. La pace non è solo una questione di arrendevolezza. La pace è anche una questione di giustizia. Il nostro obiettivo finale non è la vittoria per se stessa, è la pace, è la giustizia. Non sono interessato alla potenza per la potenza. Voglio che la mia vita conti per qualcosa e che valga la pena vivere. Nella vita la più urgente e persistente domanda è Che cosa stai facendo per gli altri? La vera felicità non viene da ciò che hai, ma da ciò che fai. La verità ha sempre la tendenza ad emergere. La vera misura di un uomo non è dove sta in momenti di comodità e convenienza, ma dove sta in momenti di sfida e controversia. La vita è una successione di esperienze che possono essere buone o cattive. Non giudicare la vita in base ad una sola esperienza. Onoriamo Martin Luther King Jr. come modello di coraggio, determinazione e amore per l'umanità. Continuiamo ad essere ispirati dalle sue parole e dalla sua vita per lottare con impegno e passione per un mondo più giusto e pacifico per tutti. Vi ringraziamo di cuore per aver condiviso questo momento con noi e vi invitiamo a continuare a seguire il nostro canale per scoprire altre storie di personaggi straordinari che hanno lasciato un segno profondo nella storia dell'umanità.